Buonasera, buonasera, benvenuti a tutti, benvenuto al mio ospite che presento subito così, proprio d'amblè, Edoardo Stopacciaro, ciao Edo Ciao, ciao a tutti, grazie mille Diteci se ci sentite bene, saluto intanto un po' di gente che sta arrivando in chat, lei parla troppo MrBlues80 che noi dietro le quinte ci chiedevamo, MrBlues se tu conosca Edoardo, se sei un fan, se sei qualcosa Adesso magari viene fuori che è uno del cast di Real che si è infiltrato, dici se lo conosci, buonasera a tutti, buonasera a Parisi 1998, tutti quelli che arriveranno in chat Allora, perché siamo qua, ok? Massimiliano Iemma dice, ciao ragazzi, si sente benissimo, dai è forte MrBlues dice certo, però è una risposta un po' vaga, adesso capiamo certo cosa vuole dire Allora, perché siamo qua questa serie? Innanzitutto perché, forse ve ne sarete accorti dalla grafica che Edo non vede perché siamo su Streamyard ma in diretta si vede Ma mi fido C'è questo logo rosso con un fantasmino intrappolato, ci sono quattro attori meravigliosi, tutti inzaccherati di qualcosa di Biancastro Non pensate male, è liquido di Marshmallow È perché ovviamente io e Edoardo prima di tutto siamo dei fan folli, sfegatati di Ghostbusters Perché comunque il franchise ormai è ritornato prepotentemente negli ultimi anni anche grazie all'uscita del nuovo film di cui poi chiacchiereremo E perché il signore Edoardo, oltre che doppiatore, quindi oltre ad aver prestato addirittura la voce, ma parleremo anche di questo, a un certo attore dei quattro, quello con gli occhiali Indegnamente Io ti dico Edo, talmente degnamente che quando inizialmente, io l'ho visto prima di sapere questa cosa Mi è quasi sembrato all'inizio che fosse il vero doppiaggio di Egon Tu ora direi che sono pazzo Ma io ho detto, ma hanno recuperato qualche... sai, magari ho detto che era stata doppiata l'E Cioè veramente mi ero fatto questo Poi ho scoperto che eri tu, e sono stato super felice Grazie E poi perché ha fatto un... è stato coregista Io ti ho chiamato coregista, giusto? Perché siete due Sì Chiamiamolo fanfilm, fanmovie, ma secondo me è quasi indegno chiamarlo fanmovie Sugli acchiappa fantasmi, che si chiama Real, punto esclamativo A Ghostbusters Tale Che potete trovare tra l'altro su YouTube, gratis Che di questi tempi, ragazzi, non è facile E potete guardarvelo su YouTube, dura un'ora e mezza Se non lo conoscete, lo conoscerete stasera, quindi andate a recuperarvelo Perché è davvero davvero bello, un omaggio splendido al lavoro di Reitman e Soci E parleremo anche di questo, poi, quindi piano piano ci arriviamo Allora... Che sei la fadenza Ah ecco, Mr. Blues dice sono Andrea Roma 80 Andrea Roma, certo Ok, ok Ora Mr. Blues non l'avevo collegato, ciao Andrea Questa cosa di... non dovete cambiare i nick da un social all'altro Perché già è difficile starvi indietro Comunque benvenuti a tutti anche i nuovi iscritti Tipo Mr. Blues è iscritto, quindi grazie per il follow Io mi presento un attimo, giusto, perché magari alcuni dei tuoi seguaci, followers Non mi conosce Io mi chiamo Marco Esposto, in arte, uomo che sapeva troppo Ma uomo per gli amici, chiamatemi solo così Scrivo per IGN Italia, quindi recensisco film, serie tv, videogame, eccetera eccetera Faremo anche una chiacchiera sul gioco dei Ghostbusters, perché è fantastico E sono un grande fan degli Achepa Fantasmi Da un annetto ho iniziato a aprire... ho aperto questo canale In cui chiacchierò in libertà, un po' lontano sai dai dogmi, no? Della testata giornalistica, in cui magari non puoi dire certe cose Quindi qua sono un po' più libero E niente, quindi stasera sono qua con Edo Che ha avuto il piacere di dirmi sì, vengo stasera Allora, vorrei dire una cosa a Edoardo Ma voi scrivete, dite, dite Non chiedete di dire Voi iniziate a dire, poi tanto noi vi leggiamo, state tranquilli Che sarà una chiacchiera informale, una serata proprio così Ti lascio parlare, perché ho già la bocca allappata Se sei doppiatore sai che è una brutta bestia Esatto, esatto Iniziamo proprio dalle origini Cioè da come io e Edoardo abbiamo conosciuto Ghostbusters Se faccio iniziare te Vai, vai pure Edo Allora, io sono una classe 83 Ghostbusters è uscito in Italia nell'85 Sei mesi dopo rispetto all'uscita americana Quindi quando è uscito nelle sale italiane Io avevo due anni, non avevo proprio modo di vederlo, di conoscerlo Io ho conosciuto prima i Real Ghostbusters, i cartoni animati Che solo in Italia avevano una cosa meravigliosa Avevano le stesse voci del film E questa è una cosa sulla cui importanza poi tornerò dopo Io intorno ai... dunque, i Real Ghostbusters sono dell'86 Mi pare che in Italia arrivarono nell'87 Quindi già ero più grandino Ero andato completamente a ruota per quei cartoni Li adoravo in un modo viscerale Adoravo i giocattoli, ce li ho ancora tutti praticamente Finché un bel giorno su Canale 5 passa il trailer Questa sera alle 20 e 30 Ricordate quando la prima serata iniziava ancora alle 20 e 30 Dan Aykroyd, Bill Murray, Sigourney Weaver, Ghostbusters, Sacchiappa Fantasmi E il nome mi aveva fatto drizzare i capelli Loro visivamente non c'entravano niente con gli eroi di cartone che conoscevo io Ma le voci, sì, le voci erano le stesse Quindi questa cosa mi aveva fatto un po' Come dire... Sì, era stato un cortocircuito Sì, un po' un cortocircuito Quindi mi ricordo di aver chiesto a mio padre Ma questi sono acchiappafantasmi come quelli che vedo io E mio padre mi disse la frase che mi ha cambiato la vita No, sono proprio quelli però in carne e ossa Salto quantico, totale Gli acchiappafantasmi esistono nel mio mondo, nel mondo reale Certo Ho visto i film Ero comunque abbastanza piccolo e piuttosto fifone Quindi avevo sperimentato appieno quel mix di commedia e di horror Altro aspetto fondamentale che tratteremo quando parleremo di un certo film, Edo Io non dico altro ma hai capito Molto bene E quindi ecco Questa cosa ha nello stesso tempo cementato il mio amore per i Ghostbusters Perché avevo un riscontro tangibile in carne e ossa nel mio mondo Degli acchiappafantasmi Mi ha fatto scoprire la magia del doppiaggio E io da lì ho cominciato a sognare Neanche a sognare perché veneravo così tanto il doppiaggio dei doppiatori Che neanche osavo sognare di poterlo fare un giorno con il mestiere Però ho cominciato a innamorarmi dei doppiatori Di quest'arte meravigliosa E nello stesso tempo mi ha anche fatto iniziare a sognare Che un giorno anch'io avrei raccontato la mia storia di acchiappafantasmi Come se, insomma, un sogno di bambino Però ecco Sognavo di fare il mio film Avevo anche già in mente la storia all'epoca E in ironia della sorte la storia che avevo pensato quando ero piccolo Era molto simile a quella di Ghostbusters Legacy Ma poi, casomai, ne parliamo dopo Fantastico Comunque così è iniziato tutto Ecco, io ho una storia abbastanza simile Nel senso che io sono nell'89 Quindi sono arrivato, diciamo, nei primi anni 90 Sono cresciuto nei primi anni 90 E sono stato, diciamo, preso come una tenaglia da entrambi i fronti Nel senso che c'era Avevo già abbastanza presente Ora non ricordo, infatti, l'esatta cronistoria Sia The Real Ghostbusters, il cartone animato Che il film E forse, non lo so Questo mi rende un bambino avanti Non lo so se questa cosa è un vanto Ma forse sì Io avevo proprio già immaginato questa cosa Ci avevo proprio detto Ok, sono gli stessi personaggi Forse nel cartone sono un po' diversi Perché se no Perché non possono usare la loro immagine Cioè io avevo Non so se forse dentro di me c'era un piccolo direttore del marketing Probabilmente che stava crescendo Avevi già centrato il problema dei diritti Esatto, esatto Poi con gli anni ho capito che sì Il fatto di utilizzare la loro propria immagine Era più che un motivo etico Era proprio un motivo di denaro Del fatto che avrebbero chiesto Non pochi soldi probabilmente Assolutamente C'è una cosa Sì Più o meno a proposito di questo Del passaggio tra film e cartone animato Che è abbastanza divertente Non tutti la sanno Ma Ernie Hudson L'interprete di Winston Zedmore Quando fu avviata la produzione del cartone animato Il primo film era già uscito Era già un cult mondiale Fece il provino per doppiare Winston nella serie animata E lo perse Questa cosa è fatta Ecco perché ricordiamo questa cosa Che il doppiaggio Visto che poi lo ripetete spesso E tu Anche tu l'hai fatto Ho visto ad esempio la tua serata da Radio Cigliano Io adoro le sue dirette Sono fantastiche Grande Alex Mi ha cresciuto come Ken Adesso lo riascolto dopo anni Come Ken Shiro ovviamente lo dico Per chi non ha iniziato E adesso come radio Con i suoi nuovi doppiaggi Ma anche con la sua radio amatoriale Che anche lei È un'altra radio che chiamare amatoriale Mi fa sempre strano Perché ha una professionalità Lui Alessio È veramente mostruosa E cioè il fatto che Il doppiaggio sia una specializzazione dell'attore E che non sia davvero per tutti Cioè ci sono anche dei bravissimi attori Che poi in sala di doppiaggio Non sanno da che parte girarsi Così come il contrario Così come a volte magari Le due cose vanno di pari passo E io lo dico Per me sei stato un grande attore Nel tuo fan film Quindi c'è anche questo C'è anche questo Sto corteggiando Edo Edoardo stasera Lo svelo Svelo gli altarini Io arrossisco malamente In diretta E mi eclisso E quindi immagino che Il povero è Ernie Hudson Che noto che è uno molto felice Di appartenere al Francese Cioè lui Pur essendo Assolutamente Tra virgolette Quello che nel primo film Era un po' quasi l'outsider Quello che arrivava dopo Quello che magari veniva ricordato meno Anche nelle copertine A volte nelle E ingiustamente E inspiegabilmente penalizzato Anche nel secondo film Sì fra l'altro Anche perché lui ha sempre rappresentato E qua entriamo un po' nel vivo L'uomo davvero della strada Cioè lui era davvero lo spettatore Che voleva lo stipendio fisso Quindi non sapeva quello che succedeva Non sapeva darsi delle spiegazioni Ma in qualche modo diceva Sono vere Io ci credo Diceva Io posso giurare Non si poneva Non si poneva neanche il problema Se crederci o no Lui veramente era un testimone Era a livello di sceneggiatura Era un espediente geniale Perché Lo spettatore Si immedesimava magari Nei personaggi Che spiccavano di più Benkman Spengler Stence Ma di fatto Noi spettatori Noi tutti spettatori Eravamo Winston Che vedevamo per la prima volta Succedere Ste cose assurde Davanti a noi Che un po' ci spaventavano Un po' ci facevano ridere Un po' non sapevamo bene Come porci Però c'erano i nostri amici A chiappa fantasmi Quindi Dagli è tutta Saliamo a bordo E andiamo avanti E crediamo in quello Che stanno facendo In qualche modo Grazie a Winston Era un po' come se lo facessimo Anche noi Come se anche noi Diventassimo a chiappa fantasmi Si esatto Era il modo La sospensione dell'incredulità Era proprio quella di Winston E poi c'erano vari livelli A me piaceva questa cosa Il fatto che Non so Venkman Fosse quello che Aveva studiato Sapeva Però comunque no Parapsicologia Psicologia Quindi Era più Studi mentali Tra virgolette Aveva meno a che fare Con macchinari Onde Linee di energia Poi si arrivava Ovviamente a Ray Che era diciamo Il meccanico Di A chiappa fantasmi Era quello molto tecnico Che credeva molto Ovviamente In quello che faceva E poi c'era Igon Igon che era proprio Il bambino del gruppo Sì esatto Igon era Viveva nel suo Cioè Igon era Veramente stravagante Era quello che faceva Gli strani esperimenti Con il fluido Nel secondo A chiappa fantasmi In cui Venkman ovviamente Chiedeva È una cosa molto importante È una cosa molto importante Quella che dici Perché negli anni Si è un po' Cristallizzata Quest'immagine Dell'Igon Scienziato Impeccabile Azzimato Tutto preciso Igon è quello che ha cercato Una spilla da baglia E poi appunto C'era Ray Che anche per Sua fama Anche all'epoca Perché comunque era già stato Un blues brother Quindi anche per chi Conosceva meno il cinema Era già un volto riconoscibile E poi arrivava proprio Questo professore Austero quasi Questo dottore Che invece poi finiva Davvero Ad aprire bocche A far ridere Anche quando diceva cose Che da piccolo Ridevi perché non capivi Non che oggi Io capisca tutto Quello che dice Igon Ma è proprio il suo bello Si 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 assolutamente Cioè Poi devo dire Che lui era anche Personaggio straordinario Grazie all'interpretazione Eccezionale Di Harold Ramis Perché Harold Ramis aveva lavorato Su un tipo di comicità Se vuoi anche più sottile Di quella di Murray E di Eccroid Lui Lavorava con Lavorava tantissimo Sulle controscene Se tutti Guardi Ghostbusters Concentrandoti Sulle controscene Di Igon Che in termini di script Ha pochissime battute Nel primo film Facci caso Ma se ti concentri Sulle controscene È un film a sé Nello spot Per dirti Quella che mi rimane Più impresso È lo spot Siamo pronti A credere in voi E lo spot Finisce con loro Che fanno il sorriso Da imbonitori Macchina E guardano il pubblico Con il numero In sovrimpressione C'è un dettaglio Igon non sa Come si sorride Quindi Da una parte Ci sono Bill Murray E The Negrit Con le loro facce E sopra c'è Erold Remis Che fa Sì 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 Si finge Proprio tipo Si grigna i denti Perché cerca di ricostruire I movimenti Dei muscoli Che portano al sorriso Ma non sa come si fa Sì 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 Perché chiaramente Lui È meraviglioso Ma ha anche la sua passione Per i dolcetti Insomma È veramente Veramente fantastico Io tra l'altro Leggo un attimo Mr. Blues Che nel frattempo Si è lanciato In un po' di cose Ah la cosa che voleva dire Era una videochiamata Prossima Tra lui Edoardo E Simone Galimberti Un piccolo progetto Ghostbusters in corso Uno spoiler ci fa Attenzione Attenzione Magari ne parleremo Voi se volete Un canale in cui parlare Sappiate che Potete venire Quando volete E poi dice Tutti noi giocavamo Con i fustini Del detersivo Come zaino protonico Ma sono stato L'unico al mondo A far esplodere L'albero di Natale Con un prototipo Di fucile protonico Ah vabbè Mr. Blues Avrebbe degli aneddoti Da raccontarci Molto probabilmente Igon iniziò A studiare il paranormale Per la porra del babau Un bambino Con la voglia di studiare L'eliminazione Del paranormale Sì Perché infatti Chiaccheremo anche Di come Ghostbusters Anche per volere Di The Nightcroid Soprattutto È un franchise Molto attento Al suo mondo Alle sue regole Alla sua continuity Insomma E anche nelle serie animate Per quanto ovviamente Dove le maglie Si allargano Molto di più Perché non è che A croida Ha letto tutti gli script Capito Dei Però Anche lì Si è riuscito comunque A dare delle cose Che poi non sono mai state Contraddette Perlomeno in maniera Non apertamente No 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 Anzi Spesso la serie animata Ha cercato di Riprendere tematiche Del film Anche in modo coerente E Non dimentichiamoci Che fra gli sceneggiatori Della serie animata C'era Michael Strazinski Io sono Spider-Man È uno dei miei Superiore preferiti Quindi il suo ciclo Sull'uomo ragno Dopo che è arrivato Tra l'altro Dalle serie tv È uno dei più famosi Quindi si si So bene che era uno Che sapeva il suo Sapeva il suo Sapeva il fatto suo La cosa del Babau Che cita Andrea È una delle cose Che più Sintetizza Una delle cose Che più mi ha fatto amare Quella serie Il messaggio che Che trasmetteva al pubblico Di giovani e giovanissimi Cioè Va bene avere paura L'importante è Saper affrontare la paura Con ironia E con Con buoni amici accanto E soprattutto Saper trasformare Quella paura In una spinta A conoscere Il fatto che Egon Sia diventato Egon Per vincere La propria paura Del Babau Io la trovo Una cosa Un insegnamento Di una profondità E di una bellezza Davvero emozionante Sì E quella fra l'altro Era una delle puntate Anche Più spaventose Che ci siano Di un cartone animato Comunque destinato anche Forse soprattutto A un pubblico di bambini E comunque Una regia Una scrittura Cioè era molto Molto curata Poi Vabbè questo lo sappiamo Visto anche il successo Visto probabilmente Il fatto che Purtroppo a volte Il successo Non corrisponde Al denaro investito Cioè a un certo punto Si dice Ah questa cosa piace Non stiamo a sforzarci Continuiamo ad andare avanti Tra virgolette A macchinetta I soldi Tu che lavori nel doppiaggio Immagino che avrai Avresti miliardi di aneddoti Su questo Su questo modo di pensare Quindi la cosa è Ma sì Non serve Dare soldi Gli animatori Quanti sono 20 Ma se quei 5 lì Fanno già le cose fatte bene Paghiamone solo 5 Quindi insomma Sappiamo che poi la serie Nel tempo Si è un po' più Atrofizzata Diciamo su se stessa Poi è stato dato Molto spazio a Slimer Quindi insomma Sono diciamo Più difficili da affrontare Le ultime stagioni Ma E questo te lo assicuro Io non so Qual è l'età dei Tu hai una bimba Un bimbo Io una bimba Di quasi due anni Ok Quindi è ancora diciamo Piccolina Ma ti assicuro Che quando arriverà In quell'età 5-6 anni Anche per le stagioni di Slimer Comunque impazzirà Veramente la grande Sì sì Perché erano Praticamente dei Louis Toons Ed il bello è questo Che secondo me Cioè poi col senno di poi No sai Uno parla anche da fan Sempre accorato E' anche giusto Avere un tar Cioè avere dei Ghostbusters Per tutti Quindi è bello che ci sia anche quello Vero Verissimo E tra l'altro ecco Parlando un attimo di serie animate Giusto perché Te l'ho anche accennata fuori E qui vabbè Faccio quello che mostra Il cimelio Non posso ingrandirlo Quindi accontentatevi Ma questa è la Ecto 1 Degli Extreme Ghostbusters Che in realtà Io ho presi Perché anche lì Da piccolo Ero già un pochino Quel nerd Che si arrabbiava Quando arrivò The Real Extreme Ghostbusters Io non fui felice Perché ero comunque un fan Dei film originali Della serie animata Originale E quindi sai Non mi piacevano C'era quella cosa Ma dove sono i miei Ecto fantasmi Chi sono questi Eccetera eccetera Ma Non essendoci più Nei negozi O perlmeno in quelli In cui mi rifornivo io Non c'era Amazon Non c'era Le mille opzioni Che abbiamo oggi Non c'era la vecchia Ecto 1 E non c'erano I vecchi Chiapanta Io però volevo Giocarci con i pupazzetti Io non avevo niente Della vecchia Lina Infatti quando guardo Le tue foto Edo Ho sempre voglia Di venire a svaliggiare La tua casa Quindi non invitarmi mai O se vuoi Se mi inviterai un giorno Schiudi bene tutte le Controllami quando esco Molto bene E quindi cosa feci? Presi Per una Santa Lucia Che qua al nord Io sono di Lodi Provincia di Lodi E' quasi più importante Di Babbo Natale Cioè noi il 13 dicembre La mattina di Santa Lucia C'è il tavolo Pieno di regali E io chiesi La questa Ecto 1 Perché comunque Era un Ecto 1 Sì poi Se la vai a guardare Ovviamente ha Gli alettoni diversi Cioè è completamente Diversa in realtà Da quella Quella originale Ma agli occhi di un bambino Era un Ecto 1 Perfetta Con anche i suoni Poi aveva anche il suono Insomma l'allarme tipico Da Ecto 1 E quali pupazzi presi? Pensa anche qua Il bimbo Che si ingegnava Perché io ho presi Igon Perché Igon c'era Quindi con uno Ero a posto E poi Qua proprio ammetto Di non ricordarlo Non mi ricordo Se il personaggio Di colore fosse Sempre Winston O fosse il nipote Forse era il nipote No no Non era parente Non era parente Ok ok Perché mi ricordo Che Winston compariva Perché a un certo punto C'era il crossover Con i vecchi L'ultima puntata Diciamo La fine della serie Era un episodio In due parti Che si chiamava Ora ricordo il titolo inglese Che era Back in the Settle Ok In cui tornavano I vecchi Esatto Che poi Canonicamente Anche l'ultima volta In cui ha lavorato assieme Prima e poi Di dividersi Come Legacy Ci ha raccontato Io però presi lui E dicevo Vabbè Io faccio che questo È Winston Quindi io Nella mia mente Avevo Winston E Igon Avevo l'ecto 1 Presi Slimer Quindi avevo anche Slimer E come cattivi presi Mi pare Un blob Verdastro Che comunque generico Ci stava E il cavaliere Quello con la testa Di Zucca Che c'era Il personaggio ripreso Dalla serie Che c'era anche Io lo ricordavo Nella sigla Quindi capito Io mi ero costruito Con Extreme Ghostbusters Il mio set Dei Ghostbusters originali Quindi Avevo usato la fantasia Nel migliore dei modi Infatti mi ci sono divertito Parecchio Saluto un po' di gente C'è il Mark Wayne Buonasera A tutti Al mitico Edoardo Sopacciaro Ti mando anche un super cuore E leggo un sacco Arriva dicendo Who you gonna call Che ovviamente Ghostbusters Anche perché parliamo di questa cosa Che Il primo Ghostbusters Io quando mi chiedono Qual è il tuo film preferito Io rispondo Ghostbusters Ma Proprio perché Innanzitutto Ovviamente non credo Nel Sai no Nella tua canzone preferita Nel tuo film preferito Anche perché è difficile Ci sono diversi generi Ci sono diversi momenti In cui magari Possiamo preferire uno Che l'altro Però dato che poi Questa domanda Te la fanno Io mi sono proprio Preparato una risposta E quando ci ho pensato Ho detto Ma qual è quel film Che vedo Ma se va male Almeno ogni sei mesi Intero Ovviamente Perché poi le clip Non ne parliamo Che so Praticamente a memoria Che secondo me Ha degli attori fantastici Che ha una sceneggiatura Edoardo Che Non devo dirlo io a te Credo sia Di granito Io credo ci siano pochi film scritti Strepitosa In questa maniera Doppiato Secondo me Anche perché Sicuramente arrivava Dalla scuola Anni 80 Veramente fantastica In cui si adattava In cui si cambiava Quando era necessario Per aiutare lo spettatore Quindi cioè Ha anche un doppiaggio italiano Che È uno forse Dei casi Dove lo dico Davvero Io lo preferisco All'originale Nel senso che ci sono Proprio dei momenti Delle frasi Veramente E bellissima Anche in originale Quindi è anche bello Perché ti dà Assolutamente Ti dà due esperienze È un livello Come dicevi giustamente È un livello di scrittura Talmente sottile Talmente poi Radicato nella cultura americana Che senza una Più che efficace Mediazione culturale Come un buon doppiaggio Sa offrire Delle cose si perdono Non è che È meglio in italiano È meglio per noi In italiano Esatto Perché le cose Che loro avevano concepito Per l'America Ci arrivano Attraverso un filtro Che ci permette Di fruirle In modo Praticamente Diretto Sì Infatti Ad esempio Quando magari vedo alcuni Esageratamente pignoli No Dibattersi sul twinkle E sul plum cake Io dico sempre Ragazzi ma Ma per uno Cresciuto negli anni 80 Per uno come me Cresciuto a pane E plum cake Della mulino bianco Cioè Sentire nominare il plum cake E poi girarsi Verso la cucina A vedere una scatola Di plum cake E dire Ecco Se devo fare l'esempio Di un Insomma Di quanto Di quanta quantità Di ectoplasmi Ci sono Posso usare Quello che ho in cucina Era fantastico Cioè era proprio fantastico E ti dirò Anche i famosi gnocchi Di lichene I famosi marshmallow In realtà Per me Che ero cresciuto Anche qua Mangiando una quantità Di gnocchi Di mia madre Spropositata Ancora oggi Cioè A me L'idea di immaginarmi Degli gnocchetti Mi permetteva Di capire Cosa avevo davanti Più dei marshmallow Che a onore del vero Questa cosa non viene Mai ricordata Vengono comunque citati Perché la prima volta Rai dice È l'omino Della pubblicità Dei marshmallow Poi sembra quasi Spiegare cosa sono Ovviamente in maniera Bislacca Però lo dice Quindi comunque Non c'è nemmeno Un tradimento Mettiamolo così Totale Questa cosa Secondo me È fantastica E chiudo dicendo Egon Che dice Il Aspetta Era Adesso devo ricordare La frase Perché altrimenti Faccio una figuraccia Era Il terrore Aspetta Il terrore Travalica La mia capacità Di razionalizzare Io questa frase Travalica La capacità Di razionalizzare È bellissimo Perché è una frase Che ti fa capire Egon Che comunque In quel momento Usa un gergo simile E in realtà Poi ti fa anche Tanto ridere Perché io mi ricordo Che dicevo Ma chi Chi in quella situazione Direbbe il terrore Travalica La mia capacità La mia capacità Di razionalizzare Cioè Quella è una delle battute Guarda Parlando Questa è una delle due Frasi di Igon Che preferisco Perché Parlando proprio Del suo Adattamento Cioè Dell'adattamento italiano Delle sue battute Ce ne sono un paio Che come dicevi Giustamente tu Rendono meglio In italiano Che in inglese Una è questa Sì E l'altra Quando loro sono in cella E Igon illustra Chi era questo Ivo Shandor Questo architetto In originale dice He performed Unnecessary surgery Eseguiva interventi chirurgici Non necessari In italiano dice Praticava la chirurgia Come atto voluttuario Mamma mia Non solo Non solo Non erano necessari Ma gli piaceva fare Cosa anche vera Fra l'altro Certo Cosa anche vera Quanto Ti rende più inquietante Il personaggio di Ivo Shandor Senza però Tradire quello Che dice in originale E questa roba è fantastica Che fra l'altro Mi inquietava da piccolo Quando Un po' perché vabbè Ovviamente da piccolino Voluttuario Non era una Una parola che usavi Tutti i giorni Quindi magari non capivi Dicevi in che senso Cioè immaginavi una cosa Molto meschina Molto becial Molto brutta Che magari faceva Con questi poveri pazienti E quindi si ti aiutava Quindi sì Veramente Veramente fantastico Vabbè Sacrifici umani Cani e gatti Che vivono insieme C'erano dei doppiatori Stellari E infatti io sono Davvero felice Che tu abbia potuto Anche se per davvero poco Poter dare la voce A Igon Perché Non posso immaginare Cosa deve essere stato È stato un grande onore Una grande emozione Ho fatto Quelle due battute Credimi Non lo dico Per dirlo Ho fatte con gli occhi lucidi E il groppo in gola Sì 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 Posso immaginare Posso immaginare Mi è piaciuto Che poi abbiano voluto Innanzitutto Che ti abbiano chiamato Anche perché Riveliamo questa cosa Perché adesso Poi parleremo meglio Di Legacy Però C'è stato anche Un aiuto giusto Non so se a te Hanno chiesto qualcosa Comunque ci si sono rivolti A degli specialisti Mettiamola così Sul gergo Dei Ghostbusters Per Ghostbusters Legacy Ovviamente Lo diciamo Per la chat Sì 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 Io e il mio amico Valerio Albasini di Giorgio Che insieme a me Ha scritto Real Siamo stati Messi in contatto Con L'adattatore Di Ghostbusters Legacy Che è anche un direttore Di doppiaggio Che conosco Insomma Ci conosciamo bene Al lavoro Francesco Marcucci E ogni qualvolta Gli veniva un dubbio Ogni qualvolta Si imbatteva In un termine Che poteva In qualche modo Fargli accendere Il campanello D'allarme Ci scriveva Ci sentivamo E diceva Sentite Qui nel film Dicono questo È già stata usata Questa terminologia Questa frase Che cosa è stato detto Nell'edizione italiana E noi Facevamo queste nostre Dissertazioni Interminabili Su come Su come adattare una cosa Su come Rendere Deve essere stato divertente Deve essere stato anche divertente Molto Perché ad esempio A me viene in mente La saga di Star Wars Che vabbè Lì ovviamente Sai poi Lo ben sai Anche tu Lavorandoci dentro Quando poi arriva L'ingerenza da fuori A un certo punto Non puoi solo che obbedire Ovviamente lì C'è stata Disney C'è stata anche La stessa Lucasfilm Che aveva chiesto R2D2 Chiamato l'R2D2 Dite Darth Vader I fulminatori Sono diventati I blaster Anche se io dico sempre Che Cioè Il nome fulminatori È talmente fantasy Che poi è quello che Star Wars è davvero Cioè è un fantasy Bravo Space fantasy A me piaceva tantissimo Infatti quando Poi allora Capisco il cambiare Quoti in cloni Perché lì era proprio Una parola che non si conosceva Però i fulminatori È sempre una di quelle parole Che ho Che ho adorato E che mi è spiaciuto Ovviamente se è stata cambiata E Quando ho visto Legacy Infatti Ho visto un'attenzione Che ho detto Cavolo ma Ci hanno fatto un buon Perché sai Io ero davvero terrorizzato Sai quando vai A vederlo in sala Dici Adesso sentirò Lo eravamo tutti Delle cose assurde Cioè Innanzitutto Il film in sé Era un film Che si portava Un grande peso Ma ne parleremo dopo Perché tu non so Se lo sai Edo Ma tra Ghostbusters 2 E Legacy È uscito anche un altro film Che si chiamava Ghostbusters Forse tu non lo sai Ma adesso Adesso parleremo Forse la tua mente Magari Mi stanno Mi stanno chiamando Devo andare un attimo Continua tu Ci vediamo dopo Uyugonacol Esatto E quindi insomma C'era già questo grande peso Poi Vedendolo anche in Italia È vero che Ripeto Oggi siamo nell'epoca In cui ci metti un attimo A vederlo in originale Però dicevo Io spero Dicevo Che ci sia un adattamento Un doppiaggio Che renda onore A quella magnificenza Che erano i primi due E così è stato In realtà Perché io davvero in sala A volte mi stupivo Dicevo Cavolo hanno detto Ora non so ovviamente Farti degli esempi Perché non ci sto pensando Ma davvero C'erano delle parole Che dico Cavolo Non lo so Non mi ricordo Se c'è La buttolino Capito Se dicono aborto di tubero Io dentro di me Ho detto A cavolo Ma hanno detto proprio Cioè Quindi c'era questa cosa Che le parole Che tornavano Erano proprio quelle classiche E quindi Poi mi ha fatto piacere Scoprire Fatti dalle Dalle tue parole Quando ho guardato Qualche tua Chiacchierata Che c'era stato Questo lavoro Che non viene fatto sempre Ecco ma È stato un lavoro Che ha pensato Il direttore di doppiaggio Cioè C'è stata una richiesta Anche No Allora Prima Prima dell'inizio Del doppiaggio L'associazione Ghostbusters Italia Di cui io sono socio Si è offerta Di dare collaborazione E assistenza Alla Warner Che distribuiva Il film in Italia A quel punto La Warner Ha messo in contatto Ghostbusters Italia Con l'adattatore E Ghostbusters Italia Nella persona di Massimo Viana Gb Max Il nostro mitico presidente Ha detto Sentite noi Fra i nostri soci Abbiamo Edoardo Stoppacciaro Che insomma È un doppiatore E Francesco Marcucci Ha detto come no Lo conosco Ci sentiamo E facciamo tutto Fra di noi E così è stato Ah fantastico Quindi diciamo che avete messo Un po' il piede avanti Avete detto Dai Dato che c'è la possibilità Di evitare qualche guaio Siamo noi stessi Che possiamo anche Beh Molto bella questa cosa Molto bella E insomma Si vede Che la passione È quella Del fan Degli acchiappavantasmi Allora Dobbiamo togliere L'elefante dalla stanza Dai Facciamolo Facciamo i professionisti Vai Togliamoci il vento Io cambierò Cambierò l'immagine Tu ovviamente Non le stai vedendo Perché adesso C'erano loro quattro Arriveranno altre Quattro Quattro personaggi Arriveranno Vediamo se è giusto Esatto Quattro personaggi Di sesso femminile Mister Blue ovviamente Dice che il 2006 Eh lo so Lo so ragazzi Lo so Lo so Vedo già la chat Che sta prendendo fuoco Ma cerchiamo Facciamo come Egon Manteniamoci professionali E adesso vi spiego Allora innanzitutto Quest'immagine Secondo me Racconta già Quale fu il grande errore Del Ghostbusters del 2016 Perché Io l'alterno un attimo Con quella di prima Che avete visto Capisco che ovviamente Sia un'altra epoca Ci sia una grana diversa Nella pellicola Però notate come Nella parte Del 2016 Sia tutto estremamente pulito Sia tutto estremamente Cartoon Sia tutto estremamente Falso Diciamo Cioè non c'è La parola real Che non è un caso Che venisse usata Ha tolto Vabbè ovviamente La cosa Di avere i diritti Anche su Per distinguere Il cartone animato Da quello classico Di cui non abbiamo parlato Magari poi Ne faremo un piccolo accenno Questa cosa Mancava Completamente Ovviamente Mister Blue ti dice Di prendere lo zaino E sparare verso lo schermo Molte volte Erroneamente Ovviamente Quando si sente parlare Di questo film Si sente dire Ecco vedi no Hanno chiamato Quattro donne A fare gli acchiappafantasmi Hanno rovinato tutto No Perché ragazzi Il problema è che Queste quattro attrici Che erano davvero brave Fra l'altro Perché i loro sketch Al Saturday Night Live Erano fantastici Non erano il problema Del film Il problema era Ciò che era stato Loro cucito addosso Le battute I dialoghi Cioè quello che dovevano recitare Non era la colpa Di essere Quattro povere ragazzi Che volevano essere Essere dei Ghostbusters Perché Qui andremo anche veloci Appunto Perché poi non vedo l'ora Di parlare di Ghostbusters Legacy Innanzitutto C'era questa cosa Dell'azzeramento Della continuity Che come abbiamo detto prima In un franchise Che dava così tanta attenzione Alla continuità Alle cose Al tempo che passava Con dei trailer Anche ingannevoli Che partivano dicendo Trent'anni fa New York I fantasmi Tutta cosa ovviamente Che non c'era Con gli attori originali Che Senza dover arrivare A raccontare Tutti i retroscena Ma io ricordo Che le mail Le mail Che vennero mandate Al povero Bill Murray Dicendo partecipa Alla campagna Fai questo Fai quello Altrimenti le cose Perché sai Si ride Si scherza Ma poi negli ambienti Lavorativi Purtroppo a volte Succedono cose Non piacevoli Quindi io ci ho visto La costrizione Un po' di quei quattro Attori nel volerci Partecipare In parte ovviamente Fuori dal loro personaggio Si per carità L'omaggio A Harold Ramis Con il busto È anche bellissimo Però è davvero Un puntino Capito In un mare di nulla Perché Si Loro quattro Agiscono pro bono Perché dobbiamo dirlo Cioè loro sono tipo Gli avenger Sono delle eroine E il bello di Ghostbusters Era che loro erano Sì degli eroi Ma erano molto Ancorati alla realtà Cioè loro agivano Anche biecamente Diciamolo Ma simpaticamente Perché avevano bisogno Di soldi Perché erano stati Cacciati dall'università Erano un'impresa Di disinfestazione Era un'impresa Di disinfestazione Che come diceva Ray Agivano per un pubblico Che pretende risultati Dove non puoi gozzovigliare I soldi ti arrivano E quindi Il problema Era proprio questo Ci sono delle scene Cioè loro rubano Il materiale Da un'università E non succede nulla Non succede nulla Il tizio le insegue Vede chiaramente Che sono Che è una di loro E non succede nulla C'è Bill Murray Che va a trovarle E anche se in maniera Insomma Con una Gag Letteralmente Muore Veniva ucciso Cadendo dalla finestra E non succede nulla Cioè Qua il primo Ghostbusters Ti metteva proprio Tutti i Ghostbusters Ma il primo in particolare C'era Walter Peck Che era proprio La realtà Ancora più reale Che entrava E poveraccio Per noi è cattivo Ma Aveva ragione lui Se fossero esistiti davvero Io probabilmente avrei detto Ma ha fatto bene Walter Cioè quelli là dentro Cosa fanno Cioè C'era questa cosa Ma poi ovviamente sappiamo Che nei metodi Ovviamente ha sbagliato lui E quindi poi succede Quello che succede Qui non succede nulla Loro possono fare Quello che vogliono Hanno un sacco di equipaggiamenti Non hanno il fondo cassa A cui dover accedere Per poter Anzi il fondo cassa Da vendersi Non succede nulla E non succede mai nulla Perché anche nella Apocalittica battaglia finale In cui New York Viene praticamente rasa al suolo Loro sconfiggono il cattivo E tutto torna a posto I palazzi si ricostruiscono Le strade si richiudono Ma Che Perché Perché Che cosa state facendo Un erro Questi erano gli errori maggiori E ci tenevo a dirle queste cose Perché ovviamente sai E' facile dire E' Ghostbusters Il femminile Ma è proprio L'aver sbagliato A capire Secondo me Qual era il cuore Degli acchiappofantasmi E' stato proprio pensato male Innanzitutto Come dicevi giustamente tu Un franchise Come questo Dove per 25 anni Tutti i fan Hanno implorato In ginocchio Di avere un sequel Tutti ne esci No Io faccio un reboot Tutto Perché Perché che bisogno c'è Infatti mi Secondo Mi spiacque tanto No no vai vai No no ma figurati No dicevo Secondo poi scritto Scritto veramente Senza caponecoda Io ho trovato Ogni singolo personaggio Macchiettistico Ai limiti dello stucchevole Bravo Oltre ai limiti Dello stucchevole Bravo Non mi è piaciuta La fotografia Che era proprio Sembrava che l'avesse fatta Duccio Patanetto Apri apri tutto Smarmella Sì 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 Patiratissima Super piatta Non c'era un'ombra A pagarla oro Gli effetti visivi Imbarazzanti Sembravano quelli di Scooby Doo Fatti però con Meno budget E fatti anche con Meno cognizione di causa Perché questa è una cosa Che non viene detta spesso La battaglia finale Sì no Scusami Times Square In base alla nebbia E un po' di fantasmi Che escono ogni tanto E' stata fatta così Perché in realtà Dove esserci un'armata Di fantasmi Più di 300 Entità Tutte interpretate Da delle comparse Con addosso Dei led azzurri Che poi sarebbero Stati rimossi Salvo poi accorgersi Che rimuovere i led Da 300 Comparse Avrebbe avuto dei costi Che sforavano Il budget Di troppo E quindi Dissero Vabbè Facciamo la nebbia E ne esce fuori Ogni tanto Per dirti Quanto non è stato Proprio pensato Sì 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 Ma infatti sono d'accordo E infatti ripeto Volevo parlarne Perché Anche perché Per farlo con cognizione Di causa Perché vedete Che comunque Scherzi o non scherzi E' un film Che conosciamo Stiamo citando anche Delle scene Che ci fa male citare Ma è E ultimo Ma infatti Poi andiamo oltre Anche quella cosa di prima E' un film Che non mi ha terrorizzato Mai Cioè io ho Sussultato In alcuni momenti In Ghostbusters Legacy Pur avendo 33 anni Quasi come Come un bambino Questo mai E poi c'era questa eccessiva Appunto buffoneria Cialtroneria diciamo E che rendeva tutto Molto slapstick Molto esagerato Con anche Slapstick tendente Al pecoreccio Cioè Chris Hemsworth Io gli voglio pure bene A Chris Hemsworth Ma come Cioè davvero sembra No capito Quello che Cioè il macio Con gli occhialoni Che poi si li toglie E sottodici Ah Cioè ma veramente Cioè nel 2016 Mi tiri fuori Un personaggio del genere Irridante Con delle scene Con Con la Il personaggio di Kristen Wiig Che diventa Improvvisamente Una ninfomane Impazzita In sua presenza Con delle scene Disgustose Di lui Che sputa il caffè Nella tazza E lei se lo beve Estatica Perché ci ha sputato Dentro lui Il Il Rettore dell'università Che fa quella scena No no è vero Veramente Due minuti Veramente Veramente E poi loro Nei film di Ghostbusters Gli acchiappa fantasmi Indagano Sbagliano Capiscono Evolvono E risolvono Nel film del 2016 Tutto arriva dal cielo Alle Alle quattro acchiappa fantasmi Compreso Il piano del cattivo Che loro non è che capiscono Per chissà quale Elucubrazione O per chissà quale loro Incredibile Dote logica Lo capiscono Perché mettono le mani Sul quaderno Nel quale il cattivo Aveva disegnato A fumetti Il suo piano malvagio Sì 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 No no ma davvero Davvero Io credo che neanche i peggiori episodi Della serie animata Erano arrivati a certe Certe bislaccherie Mai Infatti salutiamo Il film del 2016 Però volevo essere davvero Professionale Dire e spiegare Anche una volta per tutte Perché Qualcosa non andasse In quel film E che è una cosa Che dovrebbe capire Anche poi Lo stesso regista Che insomma Io posso capire Che ti toccano la creatura Quindi ognuno è geloso Del proprio lavoro O anche le stesse attrici Che a volte Saino Hanno tirato in ballo Anche argomenti Forse più Che per carità Sicuramente Ci sono stati tirati fuori Perché qualcuno Ha sbagliato Sicuramente a dire Sono arrivate le donne Quindi quello è il problema Però Quello è un discorso Che non sta nel cielo Nel interno Però Loro stesse a volte L'hanno quasi sovrautilizzato Del tipo Eh no Perché comunque Eravamo donne C'è questo E ci hanno tarpato le ali E io tutte le volte Dicevo no ragazzi È perché veramente Era un film brutto Cioè non c'entravate Niente E poi è quello che loro Ripetono ossessivamente Anche per tutto il film I loro personaggi Lo ripetono per tutto il film Sì 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 Siamo fighe Siamo cazzute Ma nessuno ce lo riconosce Perché siamo donne Passiamo Passiamo a tempi Passiamo A tempi migliori Tempi migliori Arrivati dopo In realtà due anni Che non sono stati affatto Tra i migliori Però insomma Ce l'abbiamo fatta Sicuramente Questo Anche questo per onestà Un po' fuori tempo massimo Tutti noi l'avremmo voluto Prima questo film Probabilmente nel 2016 L'avremmo voluto Però ce l'abbiamo fatta Insomma Siamo arrivati Ivan Reitman Che tra l'altro Ci ha lasciati È stato un momento È stato un momento Difficilissimo Da concepire Quella giornata In cui mi sono svegliato E ho letto Quella notizia Fra l'altro Poi anche qua Con il caso Letteralmente All'uscita del super cofanettone Quindi facciamo anche qua Il momento Io sono quello stasera Dei props Che fortunatamente Grande ce l'ho anch'io Che come me Avrei prenotato subito In barba A chi diceva Ma no Ma non lo prenoto Tanto vedrete Eh insomma Insomma All'istante No aspettate Che poi scende di prezzo Non ha fatto neanche tempo Ad arrivare il vero prezzo Praticamente Già non c'era più Esatto E quindi Era particolare questa cosa Perché dopo aver consegnato Di fatto Un vero terzo film Una sorta di eredità Un modo anche per Volendo concludere Anche se poi si sa Che vogliono andare avanti Magari poi ne Chiacchieriamo un attimo Però dopo aver consegnato Questa cosa Fatta dal figlio Poi è arrivato pure Il cofanetto Che in qualche modo Ha davvero celebrato Sigillato Il passaggio di testimone Sì È come se lui Avesse messo al sicuro La sua creatura E avesse detto Ora La interpreto così Romanticamente Beh certo Avesse detto Ok Ho fatto quello Che dovevo fare Adesso posso Posso riposare Ma guarda che Da una parte Io voglio anche Crederci Nel senso che Più di una volta Mi è capitato Leggendo le storie Di grandi artisti Di lavoratori Di gente che era Così ossessionata Dal proprio lavoro E comunque voleva curarlo Voleva farne le cose Che davvero anche Magari in periodi Di malattia Trovava sempre le forze Per fare quello che gli piaceva Quello che voleva fare E io credo che in qualche modo Davvero Lui abbia dato il tutto per tutto Anche solo per presentare Presentarsi sul set Perché poi c'era Perché poi c'era Spesso sul set Sempre Sicuramente Sicuramente so che poi È stato presente in tutte Quelle anche col vecchio cast Quindi insomma Lui c'era E davvero si è proprio seduto Quasi Probabilmente come Egon Quando quella Beh lui ha fatto Ha fatto anche da Da stand in Per Egon Vero Alcuni in shot Vero Vero Questa cosa è molto poetica Questa è fatta Quella è fatta Infatti L'intro di Legacy È fenomenale Secondo me Vedere Leggere quello Shandor Sulla miniera Vedere Quelle ombre Capire chi è che sta guidando La macchina Vederlo sedersi Ma anche nei movimenti C'è stata proprio Una ricerca Veramente Io non mi aspettavo Che l'avrebbero fatto vedere Non mi aspettavo Che avrebbero mostrato La morte E non mi aspettavo Che l'avrebbero fatto vedere Diciamo fisicamente Come Ectoplaki Infatti È l'immagine che ho scelto Tu forse non la stai vedendo Ma ci sono Loro tre Che si voltano Verso di lui Dove tra l'altro Si vede Ernie Hudson E Bill Murray Stupiti Bill Murray anche un po' schifato Come è giusto che sia il suo personaggio Cioè fa quella faccia Un po' come dire Ma che cos'è questa E La solita faccia Da cazzo Esatto Diciamo E invece Se tu guardi La faccia Di questo frame Di The Nightcroid Ci vedi proprio Un'amore Cioè Lui veramente ha Lui ha immaginato Di poter vedere Secondo me davvero Errol Remus Perché Ha una vera Lo si nota proprio Dallo sguardo Alla faccia comunque Di chi Sai no Sono tre vecchi attori In carta pecorino Quello poi La scena finale Di Afterlife O Legacy Che si voglia Io l'ho trovato Un momento Potentemente Metacinematografico Perché In quella In quella Chiusura del cerchio Così poetica Non c'è soltanto La storia Di Ghostbusters Che Chiude un capitolo Per avviarne Poi eventualmente Un nuovo Ma c'è anche La storia produttiva Dei film di Ghostbusters E la storia personale Degli attori Di Ghostbusters Io Non so se tu sai Che L'amicizia Fra Errol Remus E Bill Murray Arrivò a un Durissimo stop Sul set Di Ricomincio da Capo Sì 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 Non so i dettagli Non so tutti i dettagli Però Mi ricordo che ci fu Una rottura Una rottura bruschissima Per colpa di Bill Murray Che era Completamente intrattabile E Continuava a mancare Di rispetto a tutti Sul set Soprattutto a Errol Remus Che era suo amico fraterno Bill Murray È il padrino Della figlia di Errol Remus Sì sì Loro erano veramente Legatissimi Dopo quel film Bill Murray Si è rifiutato Di rivolgere la parola A Errol Remus Per quanto lui lo cercasse E nella biografia Scritta Dalla figlia Violet C'è una cosa Straziante Parlando di questo capitolo Della sua vita In cui Il padre Molto spesso La mattina Durante la colazione Le diceva Sai anche stanotte Ho sognato Che facevo pace con Bill È una cosa Che lo ha addolorato Immensamente E che Si è I due si sono riconciliati Quando ormai Errol Remus Stava male Bill Murray Aveva saputo Che Remus Stava male È andato a Chicago Non sapeva più Dove abitasse Erold Remus Si è fatto accompagnare Dalla polizia Si è presentato A casa Remus Alle sette di mattina Scortato da quattro poliziotti Con una scatola di ciambelle Erold Remus L'ha fatto entrare Nonostante la figlia Invece non volesse E beh immagino Hanno chiacchierato Il riso Insieme Per due ore E si sono salutati E si sono riconciliati Così E Perché ti dicevo Che la fine di Legacy È un finale Molto metacinematografico Fai caso A quello che succede Dopo la risoluzione Del problema Quando ci sono ancora Tutti e quattro I vecchi Ghostbusters Schierati Ognuno dei tre Vivi Dice una cosa A Egon L'unico Verso il quale Egon Non si volta È Peter Peter gli dice Sai me l'aspettavo Che arrivassi E Egon rimane dritto A guardare davanti a sé Poi gli parlerei Gli dice Non ho avuto fiducia in te Perdonami Egon si volta Gli sorride E annuisce E Winston gli dice Ti dovevo chiamare Mi macchi amico mio E Egon sorride Anche a Winston Ma con Peter Non interagisce mai E io arrivo a sospettare Ora qui poi Partono anche le mie Cioè ovviamente Che sia stata Una richiesta Precisa Della famiglia Della figlia Soprattutto di Aaron È probabile È probabile Perché qui entriamo Nella parte diciamo Controversa Anche del film Perché immagino Che non tutti Abbiano gradito La comparso Ovviamente di Egon Come fantasma Sai ci sono sempre un po' Varie discussioni Sull'utilizzo Dell'immagine Degli attori In realtà Io È una cosa Che non mi ha Non mi ha pesato Anche per come è stata Trattata Secondo me Per come L'hanno L'hanno resa Diciamo Nel film E perché In realtà Non scordiamoci Anche questa cosa Sì Ovviamente Confermo Questa cosa Cioè confermo Non stento a crederci Questa cosa Della figlia Perché ovviamente La famiglia Deve avere il veto Proprio credo Che legislativamente Ci sia questa cosa Che gli eredi Sì 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 Loro sono stati i primi A leggere la scena Esatto Quindi loro devono sapere Se dire ok Sì o no Fatelo comparire Non fatelo comparire Infatti vabbè Nel cinema Abbiamo assistito A tante diverse comparse Anche Prima parlavamo di Star Wars Penso all'ammiraglio Tarkin Esatto E però Non dimentichiamo Questa cosa Che comunque Soprattutto Remis E Eichroid Che sono quelli Che scrivevano Le cose assieme Eichroid bellissimo Ha detto che lui Ha scritto Legacy E diceva Io sentivo Remis Che mi suggeriva Le battute Perché hanno sempre Lavorato Talmente in simbiosi Lui dice A scrivere le cose Che Io capivo Cosa lui Mi stava per suggerire Oppure Cambiavo delle battute Perché mi sembrava Di sentirgli dire No Dan Questa è una Stronzata Cambiala Perché la verità È questa Che alla fine Erano comunque Dei cazzoni C'erano dei cazzoni Meravigliosi Degli scemoni E io ho sempre detto Anche a chi magari Ti tuba un pochino Davanti a Utilizziamo L'immagine Di un attore morto Ma Io che Credo di essere Abbastanza in linea Con i signori Remis E Eichroid Se io fossi stato In un franchise Del genere Se tu Edo Fra Ti auguro Più anni possibili Ovviamente Arrivate a Real Quindici Ok Ma Ma secondo te Tu non lasceresti Scritto da qualche parte Ma ragazzi Ma subito voglio arrivare Come fantasma Cioè Era un franchise In cui Eichroid E Remis Erano talmente Invischiati Talmente dentro Che è palese Che quando si parlavano Si sentivano Remis Gli lo diceva Cioè io credo Che al telefono Gli diceva Guarda che se facciamo Un nuovo film E uno di noi Non c'è più L'altro deve arrivare Come fantasma E io immagino Che Eichroid diceva Ma per forma Sicuramente Ma lo stesso Murray Quando non voleva più tornare Diceva Tornerò solo Solo come fantasma Sia da vivo Ma secondo me Eppure anche da morto Avrebbe detto Ma sì Usatemi come fantasma Insomma C'è anche questo concetto Da sicuramente Che erano un gruppo Comunque di amici Parlo ovviamente Soprattutto di Eichroid E di Di Remis Che quando si metteva lì Davvero in uno scantinato Sai Nelle loro Nelle loro cantine Tipiche americane A scrivere cose A bersi magari Il vino Che uno di loro Produce Forse Eichroid Produce il suo Whisky Eichroid produce vodka Esatto La sua vodka Io immagino che Tra un bicchiere e l'altro Si dicessero Oh comunque Se facciamo il film E uno di noi non c'è Fantasma Ma certo Quindi io credo Che sia nato davvero In questo modo E quindi Lo avvallo completamente Perché poi ripeto È stato fatto in una maniera Super rispettosa Non ingombrante Anche perché Mi ha spiazzato totalmente Perché io Io dentro di me pensavo Non oseranno mai Fare una cosa E io Io pensavo Fare una cosa grave Come ricreare Iconi in CGI Non possono Perché viene una cosa Stucchevole Irrispettosa Imbarazzante Brutta E ridicola Io mi sono trovato Quando quella mano Si stringe Sul Sul Il fucile protonico Impugnato da Phoebe Io ho detto No Fermi tutti No 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 Ero talmente fuori Da ogni mia previsione Si 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 Che ho pensato Di che cacchio è quella mano E poi ho visto Igon E sono morto Completamente Anche perché Che cosa hanno fatto loro Scelta straordinariamente rispettosa Loro Non hanno ricostruito Il vecchio Harold Reis Hanno ricostruito Il vecchio Igon Sembra una questione Di l'anacca No no è vero È vero Facci caso Harold sul finire della sua vita Non era come noi lo vediamo In Legacy No no esatto Si si mi ricordo Ma dovendo immaginare L'Igon dei primi due Ghostbusters Vecchio È quello Si si è vero Remis negli anni Era ingrassato parecchio Poi ha tolti ovviamente Poi i problemi anche di malattia Che ha avuto negli ultimi anni Cioè Era proprio Era molto diverso Da quell'Igon Però in effetti Anch'io quando l'ho visto Ho detto Cazzo questo è Igon Non è Harold Remis È Igon Infatti c'ha scritto Cioè Comunque ha l'etichetta Spengler Sopra Cioè proprio è lui Con quella barba Con quel modo di essere invecchiato Tra l'altro anche Un po' meno Probabilmente Essendo morto magari Da qualche anno Rispetto magari Anche ai suoi compagni Fra l'altro C'è stata anche proprio Un'attenzione A quello E che mi è piaciuta È piaciuta tantissimo Sì Mi è piaciuto anche tanto Anche comunque La parte prima Perché poi ovviamente Noi da fan Sai Uno si sofferma molto Sulla scena clou Ma in realtà C'è una costruzione Anche Per farti spaventare Per farti Capire cosa sta succedendo Indagare Che mi è piaciuta davvero tanto C'è un modo di legare Tutti i film Tutti gli eventi Anche no Di Ivo Shandor Dare un senso Anche all'esistenza Dei fantasmi Perché Non dimentichiamo Che Di fatto La saga di Ghostbusters Ruota tutta Intorno a Shandor Perché Anche il famoso blob Poi è stato Ritconnato Sia nel videogame Che poi Nelle molte cose Successive Che i condotti Comunque Erano sempre i condotti Shandor Quindi comunque Il blob In qualche modo Esisteva Anche grazie Al fatto che fossero Tutti i progetti Un po' come la miniera Che portavano il nome di Shandor Quindi erano molto precisi E questa cosa mi piace Assolutamente Perché È diverso Quasi dal dire I fantasmi Esistono e basta Che è una cosa che infatti Avete fatto anche nel vostro film Cioè Dare sempre una connotazione Realistica Dare un oggetto Che sia un portale Nel vostro caso Portale in senso Proprio murario Che sia un libro Che sia un Appunto un condotto fognario Cioè Ghostbusters Ha fatto sempre questo Cioè il Prendere il materiale E infilarci dentro Diciamo Quello che è Lo spirituale In qualche modo Quindi A vedere questo Questo dettaglio A me ha fatto Impazzire Cioè proprio È piaciuto tanto Tu hai detto una cosa Molto molto interessante Molto giusta Su come Legacy Ha appunto Legato Tutta la filosofia Tutta la mitologia Di Ghostbusters E come l'ha portata In una nuova dimensione Parlando In modo diretto Ai fan A chi Quei film È cresciuto Amandoli E aspettando Una prosecuzione Di quell'avventura In merito a questo Voglio tornare Al discorso Che facevamo In avventura Sul personaggio Di Winston E abbiamo detto Una cosa Abbiamo detto Che Winston Di fatto Noi fan Eravamo Winston Noi fan Grazie a Jason Reitman Siamo ancora Winston Perché Perché per tutti Questi lunghi anni In cui la Sony Ha completamente Ignorato il marchio Di Ghostbusters Ignorato se non Distrattato Certo Chi è stato Su chi è gravato Il peso di portare Avanti quel marchio E di portarlo In giro alle convention Di fare fan film Di realizzare I props Fatti in casa Con una minuzia Di particolari Incredibile Ai fan Chi è Adesso Nell'universo Di Ghostbusters Che sta facendo Rinascere Gli acchiappafantasmi Che li sta finanziando Winston Così come noi fan Così come Winston Rappresentava noi fan Spaisati Che ci affacciavamo Per la prima volta All'universo Di Ghostbusters Così adesso Winston rappresenta I fan Che per tutti questi anni Hanno pagato L'affitto Della biblioteca Diretta Esatto E questo è Un parallelo pazzesco Questa cosa è bellissima Jason Reitman Ha veramente Fatto centro Questa cosa è davvero Davvero bella Infatti sì Anche secondo me È davvero riuscito Io l'ho visto Con un mio amico Fra l'altro Non un super fan Dei Ghostbusters E anche abbastanza critico Che in realtà Finita la visione Mi ha detto Che si era divertito Che si era divertito Forse vabbè Ma questo è un difetto Non di Afterlife Ma del cinema di oggi È un classico film Da cui magari Toglieresti volentieri Un quarto d'ora Ma questo perché Tutti i film di oggi Se non durano Almeno due ore e mezza A volte Non vale È il Ghostbusters più lungo questo Penso di sì Forse come minutaggio Credo proprio di sì 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 Non perché ripeto Tra l'altro Il quarto d'ora Da togliere Sia un quarto d'ora brutto Ovviamente È proprio questa cosa Del tipo Madonna ma Se non durano almeno due ore Oramai i film Non possono Non possono uscire Però È un film che aspettavamo Da tanto Quindi in qualche modo Avere più pellicola possibile Pellicola per modo di dire Ovviamente Da vedere Ecco come pensate Che andrà avanti La saga dopo Legacy Adesso lo accenniamo Poi parliamo di Real Che merita un sacco Perché Non è l'unico film Che è uscito Nel 2021 E anche questa cosa Io secondo me Ti ha portato Qualche brivido Secondo me Sì sì Poi ne parliamo Poi ne parliamo Allora Sì sì assolutamente Mark Wayne Come pensate In realtà Oltre che al pensarlo Un po' di dichiarazioni ci sono Ovvio Sono le dichiarazioni Principalmente di Aykroyd Che è un gran sognatore Lui ovviamente Sì Non ha mai paura Di andare avanti Lui diceva che Era in lavorazione Una Una serie Prequel Mi pare Ambientata Lui voleva scrivere Una serie prequel Ma Ivan Redman Gliela bocciata Ah ok Perché lui voleva fare Una serie prequel Mi pare ambientata Proprio davvero Al liceo Comunque cioè Far capire come arrivano A diventare i Ghostbusters Che poi sono all'inizio Del film Però i Reitman Gliela hanno blastato Gli ha proprio detto Era uscita la notizia Che c'è una serie Live action In lavorazione Sulla quale però Non si sa ancora nulla Ok Quindi per adesso Non si sa se questa serie Proseguirà Sicuramente si collegherà Agli avvenimenti di Afterlife Non si sa se avrà Gli stessi personaggi O se sarà Un franchise di Ghostbusters Che si sviluppa parallelamente Magari sempre sotto l'eggita Del buon Winston Che coordina il tutto Quindi insomma Sicuramente Come si dice Ecco qua Ho cercato la pagina Future infatti Ah dice esatto Addirittura Icroyd has expressed interest In having the surviving cast Of the original Ghostbusters Reprise their roles In up to three sequels Addirittura Quindi lui Altri tre sequel Diceva David Gross Sempre altissimo Ovviamente Ah si Che comunque sono soddisfatti Di quello che è incassato Perché comunque Visto anche i tempi In cui è uscito Beh e soprattutto Quanto è costato Non ci dimentichiamo Che Ghostbusters Afterlife È costato 72 milioni di dollari Pochissimo È una cifra È un budget ridicolo A fronte del reboot Che ne era costato 145 Soltanto di produzione Più 80 milioni Di reshoots Più Ulteriori 100 Mi pare Per la campagna Di promozione In tutto il mondo Quindi insomma E non è incassati Credo nemmeno la metà Ha incassato Ha incassato Presso a poco Quanto Quanto Afterlife Eh infatti Mi ricordavo Che era intorno No no infatti Che poi Questo è anche il brutto Perché quel film In qualche modo Ha anche azzoppato L'idea di Di franchise Di Ghostbusters Per parecchio Quindi insomma ecco Se devo pensare Come andrà avanti A Mark Wayne Ti dico Un sequel ci starebbe Visto anche Quello che Le basi che getta Con il finale Con Winston Che fa Che rimette in piedi Diciamo La roba Dei Ghostbusters Dico anche questo Sarò anche Enormemente più buono Io con tutto Quello che dovrà Arrivare Ma spiego anche Il motivo Perché Legacy Secondo me Ha fatto quello Cioè è riuscito Davvero a passare La torcia Le generazioni future Quindi ovvio Non è che dico Che se verranno Dei film brutti Io sarò Li incenserò Nelle mie Nelle mie recensioni Però ecco Ci rimarrò Magari male Ma sapendo Che comunque La mia conclusione L'ho comunque avuta E che adesso C'è semplicemente L'idea Che il futuro Può arrivare E anche se non dovesse Perché sai Lo sappiamo Che tra pandemia Cosa è sempre difficile Mettere in piedi Dei progetti Ghostbusters Appunto È sicuramente Un film Che non ha fatto Il miliardo e otto Di Spider-Man In cui è molto più facile Immaginarsi Dei nuovi film Se non dovesse Succedere niente Io comunque Sono anche già felice Così Ripeto Quell'idea Che abbiamo detto Prima dell'incapsulamento Di una saga In un cofanetto Per me È già fantastica Tra l'altro Così Vado avanti Con le props Perché mostro questo Che ti ho fatto vedere prima Cioè Una cassetta Di Ghostbusters Più recente Perché non è quella storica Vedo che è del 2000 Quindi comunque Ma A me stregò per questo Perché adesso Vi faccio vedere Ripeto Non potete vederlo Nel dettaglio Ma si intuisce Che all'interno Della cassetta C'erano Una serie di curiosità E di dietro le quinte Perché Perché le cassette Ovviamente Non avevano Gli contenuti speciali E qui in realtà Ci sono delle cose Tipo A caso La voce demoniaca Di Dena È stata doppiata Nella versione originale Dalla regista Ivan Reitman Io questa cosa Che è una di quelle cose Diciamo che oramai Chi non lo sanno Però io la imparai Proprio qua Leggendolo sul reto Di questa videocassetta E fu Fu fantastico Nel 2 Perché è uguale Ti viene detto Comunque dei problemi Produttivi Murray che non era convinto Insomma Iniziai già In quegli anni A capire Cosa c'era dietro Ghostbusters Grazie a quella A quelle videocassette Che ovviamente Quando poi si è trattato Di rimpiazzarle Con questo Ormai stiamo facendo Proprio la carrellata Bellissima la combo Io odoro i cofanetti E quindi aspetto sempre Che le edizioni singole Si trasformino in cofanetti Non le ho date via Non le ho date via le videocassette Ragazzi ovviamente Io vi invito A dare a vedere Anche sui profili Di Edoardo Le sue foto Perché lui Non sta tirando fuori Quello che ha In casa sua Ma Potremmo restare Qua ore No Ultima cosa Qui Tiratina d'orecchie Sony Belli contenuti Però insomma Cioè Voglio dire Cento dischi Uno sopra l'altro Infatti No Anche no Infatti dirò Questo cofanetto Uscito adesso Ciao Greco89 Bentornato Altro fan di Ghostbusters Greco89 Fan degli anni 80 Ghostbusters Dentro sicuramente Quello che adoro Del cofanetto E lo dirò Forse sembra Campanilista Anche Della versione italiana Perché Molti hanno criticato Vabbè L'assenza delle luci Che io quando ho fatto Il video per il mio canale Ho detto Ok Per carità Visto il prezzo Ci stava anche Metterle Però Quante volte Mi metterò lì Ad aprire Guardare le luci Così con le mani Incrociate Cioè posso anche Passarci sopra Molti Avevano sofferto Anche il fatto Che noi abbiamo Le custodie in amarei Classiche Ma in realtà Per me Cioè darmi L'edizione Standard Tra virgolette È stato quasi un plus Perché comunque Il cofanetto È bellissimo Ma quando Se io volessi Esporre tutti i miei DVD e Blu-ray Mi piace L'idea di avere I film Anche ordinati Con le loro copertine E quindi Non mi ha dato fastidio Il fatto che Gli americani Avessero il cartoncino Che fra l'altro Spesso finisce Con rovinarsi Io lo dico Quindi Per carità È ovvio che dietro Non nascondiamoci C'è un'esigenza economica Di Eagle Pictures Italia Che comunque ha detto Ragazzi Buttiamoci dentro Gli amarei E arrivederci Però Diciamo che Facendo di Necessità virtù Io sono soddisfatto Anche dell'idea Che ci siano dentro I Cosi Poi sì C'era chi chiedeva La traduzione del libro Però ragazzi Costa Cioè costa davvero Anche per come è composto Il libro Perché non è che siano Non è un file pdf Che puoi Tradurre al volo Sì Assolutamente Lì Quella è Una ristampa Cosa rende quel libro Un pezzo da collezione Che è la ristampa esatta Di un libro ormai Pressoché introvabile Se non a prezzi Vertigiosi Uscito in concomitanza Del primo film Nel momento in cui Tu vai a tradurre Fatalmente anche L'impaginazione Subisce Qualche Sì Sì Qualche paragrafo Che ti slitta Di mezza pagina No È quello Nell'84 Non fu fatta Un'edizione italiana Di Making of Busters C'era Quell'edizione lì E adesso Ce l'abbiamo anche noi È una repro È una vera e propria repro È una repro Assolutamente Poi è un cofanetto Dove ci sono tanti Di quei contenuti Stare a preoccuparsi Stare a farsi un crucio Dell'assenza delle lucine Mi sembra veramente La cosa Quando il saggio Indica la luna Lo sciocco guarda il dito Guarda il dito Esatto Ci sono i giornalieri Giornalieri Del primo film C'è la versione Senza effetti visivi Con i ciac Con dei ciac Montati diversi Che vederla È come vedere Un altro film Incredibile Scopri un altro Ghostbusters Io quando Già nel cofanetto Diciamo quello Quello bruttarello Diciamola così C'erano quelle scene Extra Ambientate In quella specie Di convento Non ho chiesa Non mi ricordo Quel posto dove vanno In cui Poi hanno tenuto La scena Dei pantaloni Slacciati Era un museo militare Non so perché Ho detto convento Però so che loro Passano alla notte Quando io vedevo Quelle scene Avevo il cuore A mille Perché io Stavo vedendo Un'avventura Anche se ovviamente Di poche scene Una nuova avventura Dei Ghostbusters E quindi come dici tu Anche vedere Queste versioni alternative È davvero come Vedere qualcosa di nuovo E infatti Quando ho visto In Legacy La scena finale Con Egon Che già avevo visto Come scena tagliata Però mi sono emozionato Perché ho detto Oh mio Dio Sto vedendo Qualcosa di canonico Tra virgolette Ridoppiato Sto vedendo una scena Era veramente pazza Veramente pazza Allora Io direi che Questo qua Siamo Sì Un dicembre e un quarto Sì 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 È il momento perfetto Secondo me Per chiacchierare Invece di qualcosa Di molto italiano In cui Edoardo Ha messo Tutto credo Cioè l'anima Lo spirito Il corpo Il sudore Il suo ectoplasma Ectoplasma Tutto Faccio una breve presentazione Poi ti lascio parlare A te ovviamente Sì 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 Ecco una cosa Che secondo voi Potrebbero esplorare di più Nei prossimi film o serie Di Ghostbusters Cioè Non ho capito Se l'hai detto Una cosa che secondo voi Potrebbero esplorare Ah Forse ci chiedi Cosa potrebbero esplorare Non saprei in effetti Su cosa potrebbero Concentrarsi È difficile È una bella domanda Io Se dovessi pensare A un proseguo Cinematografico O seriale Della storia di Ghostbusters Cercherei di creare Qualcosa Di veramente nuovo Eviterei Come la peste Andare a ripescare Vigo Il Carpatico Con tutto l'affetto Per Vigo Il Carpatico Mi è sempre La melma La melma Nasceva Dalle tubature Di Shandor Comunque erano marchiate Shandor Perché non abbiamo parlato Il vero Ghostbusters Legacy Non ha il numero Perché è Ghostbusters 4 Perché il 3 ragazzi È il videogame Con quella bellissima trama Che unisce un sacco di cose Con quel bellissimo diario In cui puoi leggere Tutte le razze di fantasmi Che qualcuno In un certo fan movie Tra l'altro Anche canonizzato Mettendo delle date Molto specifiche Di cui adesso parleremo E quindi In qualche modo Lì ti veniva detto Che comunque Essendo dei Cioè Di fatto Vigo Risorge sempre Grazie a Shandor In qualche modo Quindi Chiudendo la parte Godzer Shandor In qualche modo Hai anche in teoria Impedito Che possa ripresentarsi Anche se poi sappiamo Che le vie di Ghostbusters Sono infinite Certo Ma bisogna esplorare Poi ecco Se il nuovo Se i prossimi registi Io spero che sia sempre Gesù Reichman Ma non lo so Dubito Che vorrà Imbarcarsi di nuovo Nell'avventura Chiunque dirigerà Un eventuale prossimo Ghostbusters Materiale caro ai fan Da cui attingere Ne ha tonnellate Basta pescare a caso Degli al Ghostbusters Mamma mia Mamma mia Sì Se vuoi giocare sempre Sulla ripresa Di cose Care ai fan Io Mi fai Una serie Incentrata su Babau Io posso morire Mamma mia Mamma mia Samain L'uomo del sonno Il Grundel Migliaia di migliaia Come era il titolo italiano Il flauto della fine del mondo Con quella storia bellissima Dell'uomo Con quella sorta di maschera Che il pazzo per amore Decide di scatenare La fine del mondo E del suo servo deforme Che è Tilio Che invece ha un cuore buono Cose Commoventi Belle Terrificanti Sì Sono tonnellate di episodi Di spunti Fantastici Infatti Anche io spero Una sorta di novità Che in parte ci ha dato Questo film Perché ribadisco Comunque aveva anche Delle cose interessanti Anche l'idea di ambientarlo Fuori da New York A me è piaciuta Quella ruralità Molto misteriosa Perché non dimentichiamoci questo Che sì New York È il cuore anche questo Di Ghostbusters In qualche modo Ma la New York di oggi Non è la New York Degli anni Ottanta È molto diversa È molto meno misteriosa Forse più disillusa Più venduta A se stessa Come molte cose Degli nostri anni Ma non ha quell'aria Misteriosa Che aveva anche La New York degli anni Ottanta Perché la New York degli anni Ottanta In quel periodo In cui poi Carpenter Era raccontato bene Con Fuga da New York Perché lo ambientava nel futuro Ma era lo specchio Del presente Era la criminalità anche Cioè Perché i supereroi Negli anni Ottanta Come Davy Lo Spider-Man Sono diventati molto oscuri Perché Girare Cioè Le scene che noi immaginiamo Dei film Dove tu giri l'angolo Entri nel vicolo E c'è il rapinatore Con il coltello Che ti minaccia Era credo La quotidianità Lì a New York All'epoca Quindi ambientare un film A New York E metterci I fantasmi Metterci gli hotel Metterci le fogne Era qualcosa Di molto Molto attinente Al mondo Al mondo Dell'epoca La New York di oggi È Sicuramente i vicoli Dove forse è meglio Non avventurarsi di notte Ma è molto più pulita È molto più Modena È molto diversa E quindi Paradossalmente Il film del 2016 Rispecchia molto di più La New York Di oggi E ci ha fatto proprio capire Perché Non funziona Come setting Invece una vecchia casa Una vecchia miniera Un vecchio paesino Dove non Dove non c'è anima viva Era perfetto Come setting Poi certo Non lo nego Se mi rimettono La caserma E mi rimettono Central Park Mi rimettono comunque New York È comunque un setting Fantastico Ecco Però Devono saperlo utilizzare In maniera Interessante Quindi vedete